Ciao ragazzoli da Samba 23 qui su Minecraft su Xbox One Allora stavo a vedere un po' le mie cose qua, sono un po' messe male quindi Bando alle ciance, ciance alle bande, purtroppo dole al cuore ma dobbiamo ripararle e per farciò ci servono Er Diamanticus, l'incudine sta messa bene ah mi serve il cuoio vero per 51, si che basta no? mi serve il cuoio per riparare un attimino però allora tiriamo via perfetto io inizierei dalle lettre che è quella che uso di più 10, 10 che sono livelli, poi il metalor questo via, questo lo mettiamo qua quanto mi fai tu 10? però sei tornato perfetto, e i piedini ah mannaggia allora io magari quasi quasi, tu sei riparato tu sei riparato io andrei un attimino su nella farm di XP a farmi un po' di XP o nella farm di Osa, ma vediamo un po' e cosa mai, dai vediamo eh non ancora io ok ci sono eh vedete però per salire maledetti ok atteriamo uh c'è 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 un po' di gente li sento, li sento, li sento, li sento dobbiamo fare un po' di XP perché ci serve per aggiustare le nostre cose andiamo qua quindi via con l'acqua perfetto il sole sta tramontando prepariamoci a ah no è vero ok adesso ok sono caduti un po' ma non tanti abbiamo delle colonne a leggera spinta è solo uno scheletro è caduto e siamo già a livello 8 dai vediamo un po' se non vado giù dagli scheletri chi cavolo ok oh ma sono scheletri vengono fuori buh ma non so perché ragazzuoli non so perché non viene fuori nessuno vabbè io resto qua un po' mi faccio un po' di XP basta arrivare a 10 oh è pur caduto dai mi basta arrivare a 10 ma mi fermerò a 12 13 vediamo andrà casomai vado in quella giù che mi sa che ci sono più mostri ok sono qua io alla fine ecco così lui se ne va giù mi metto qua un po' perché sopra non c'è proprio un gran che di XP qua se ne fa parecchio di più penso perché questo qua sforna vedete scheletri di continuo sono caduti? si quasi uh devo stare attento a non cadere bravi è stata venerà buoni buoni ok sono caduti tu dove sei tu? vieni qua vieni vieni mannaggia ok andiamo a copparli intanto la guardate 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 quanto esperienza facciamo benissimo ragazzuoli qua si va su che è una meraviglia allora proviamo di nuovo perché praticamente adesso io cosa devo fare adesso sono già a livello 10 e cosa devo riparare solo i piedini e anche i pantaloni quindi mi faccio altri 10 livelli off the camera quando sono a 20 intanto sto un attimo e appena sono a 20 andiamoci a riparare le nostre le nostre cose ok ragazzuoli dopo circa un quarto d'ora 20 minuti questo qua ormai è l'ultimo guardate qua quanto ho accumulato e considerate che allora queste qua per non baggarle li metto qua arriva ancora uno dai eccolo qua via qua 21 è più che sufficiente ok adesso ce ne possiamo tornare sopra però non so se conviene volare no no ce ne andiamo ce ne andiamo ce ne andiamo praticamente su per le scale perché è meglio ce ne andiamo su ovviamente sta facendo buio scommetto spero di non incontrare qualche brutto cefo no mangiamo ok perfetto perfetto ok allora di qua siamo a posto sento rumori di ragnetti abbiamo 21 livelli io spero che che mi bastino si dai allora quindi che dovevo aggiustare io ah si questi e magari i pantaloni perché magari la corazza no perché la uso spesso con si ma quanti diamanti mi fotti di 61 ah solo 3 perfetto e tu invece mannaggia non ho ancora va bene dai fa niente ci le rimettiamo così questi ci rimettiamo così oh i diamanti begliadati si 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 andiamo subitissimamente a metterli in cassaforte e oh che casino andiamo a mettere subito in cassaforte quanti ce ne stanno qua 6 47 smeragli già benissimo benissimo va bene ragazzuoli ottimo ottimo allora in quel poco tempo che ci resta che volevo farvi vedere che volevo farvi vedere voglio farvi vedere praticamente la casa il caseggiato dove abito io messo diciamo finito vedete come è fatto questo è il fronte praticamente ci sono tre porte e quattro appartamenti per ogni porta uno due tre quattro e poi uno due tre quattro qua e quattro di là dietro invece sono fatti così allora dentro è vuoto eh ho messo gli slab perché non spawnino mostri quindi vabbè dai vi faccio vedere giusto tanto per ho messo tutte queste slab perché così tanto pietra ne ho un disastro e le ho messe così praticamente i mostri non spawnano dentro è sotto tutto vuoto questi sono i buchi della cantina perché sotto ci sono le cantine e ci sono quindi le inferiate per non fare passare persone o animali grandi non so e dietro praticamente ci sarebbe il cortile qua di ognuno e qua li ho fatti chiusi così almeno si verrà più bello da capire da vedere e quindi qua gli scuri sono chiusi ci sono le scalini per entrare dentro un piccolo muretto poi poi è giusto così sì no che ne so io uno due no bu e poi ci sono praticamente anche queste qua ci sono anche queste qua che sono quelle centrali che ce l'hanno di qua uno due tre quattro giusto e fa niente ragazzuoli come potete vedere i mattoni vanno fino sopra la finestra lì questi invece si fermano qua e lateralmente invece vanno lì così poi mostri permettendo a meno che non a meno che non taglie ok il tetto è fatto così pensavo fosse complicato farlo invece è bastato solo andare a girare e praticamente ho messo vediamo se mi riesce di andare sul tetto maledetto devo mettere giù il cuoio dopo anche ok devo stare attento come atterro qua no 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 ok ok praticamente ho messo un blocco grande e un blocco piccolo un blocco grande e un blocco piccolo di modo tale che così abbiamo diciamo le slab abbiamo le slab le lastre praticamente di mattone qui ho il blocco qui poi dietro il blocco che è alto uno poi sopra il blocco un altro slab poi il blocco slab blocco e slab così fa mezzo e viene un effetto giusto come che sia va bene ragazzuoli il tempo è volato vi metterò in descrizione le due immagini che ho preso delle case così vedete che più o meno sono circa più o meno uguali del caseggiato non delle case e vabbè io dove sono io sono a 12 blocchi così un po' più diversi perché quelli esterni invece di avere gli appartamenti in alto hanno una casetta in basso solo e quindi manca la parte alta negli angoli sia di qua che di là e vabbè vi metterò in descrizione le immagini quindi ragazzuoli io vi ringrazio come sempre commentate iscrivete lasciate un mi piace eccetera eccetera io vi ringrazio vi saluto ciao ragazzuoli ciao ragazzuoli ciao a tutti bye bye bye